sta discutendo in particolare di due cose. La prima, il Premier Netanyahu potrebbe nelle prossime ore vietare la trasmissione, vediamola intanto, di Al Jazeera. Cos'è Al Jazeera? Ve lo ricordiamo, è la televisione che ha sede in Qatar, è considerata la CNN del Medio Oriente. Una è Al Jazeera e appunto trasmette direttamente dal Qatar e il Qatar è nell'occhio del ciclone perché in tutti questi anni non solo ha finanziato Hamas, ma è lì che si sono rifugiati alcuni dei capi, i vertici di Hamas. E in queste ore il governo sta discutendo l'idea di chiudere le corrispondenze di Al Jazeera da Israele. E l'altra grande questione che le voglio far vedere sono queste immagini, cioè le proteste di buona parte della società civile israeliana che ormai da giorni, ecco qua, nei pressi della Knesset, che è il Parlamento di Gerusalemme, nei pressi della Knesset protestano per chiedere nuove elezioni. Ora, la domanda che io le faccio è nella storia. Ci sono stati dei casi forse nelle quali le democrazie anche durante una guerra sono andate al voto? Forse penso all'Inghilterra. Sì, l'Inghilterra. Quando ci fu il passaggio da Chamberlain a Churchill, se non ricordo male. Secondo me ci andavano. Sì, è un caso raro, ma ci sono andati. Questo caso raro però potrebbe anche ripetersi, perché francamente il fallimento di Netanyahu sul terreno politico-istituzionale è sempre più evidente. È persino drammatico. Adesso questa cosa contro una fondamentale per il mondo arabo, fonte di diffusione delle notizie. È una misura insieme che dà l'idea, lì è misura se si verrà presa, della fragilità e della debolezza dello stato della democrazia oggi in Israele. Vorrei ricordare che fino a ieri, colpevolmente secondo me, è stata considerata l'avamposto dell'Occidente. In questo avamposto c'è sempre un rischio. Ma insomma... Per via di liberi, per tante ragioni. Per molte ragioni, esattamente. Con antiragioni, ma anche con un'esposizione al rischio in questo essere considerata non un paese dotato di una propria originalità, l'autonomia ma avamposto di un mondo, che potrebbe essere anche in ragioni coloniali considerato avverso. Ora, questa duplice condizione. Da un lato un'operazione che se si realizzasse sarebbe di censura, contraddicendo la natura di fondo dello stato di Israele e dall'altra parte le manifestazioni che chiedono ormai la fine del entre guimè regno di Netanyahu. È la dimostrazione fisica di questa condizione. Netanyahu prosegue la guerra, la espande e contemporaneamente si espone a un crescente dissenso. Ecco, perché vede Bertilotti, queste immagini che ci arrivano in diretta in queste giorni da Tel Aviv mostrano le bandiere, un pezzo importante di società civile e poi le tende. Le tende di questi che si accampano, che non sono soltanto i parenti degli ostaggi, perché uno potrebbe dire che i parenti degli ostaggi dicono finiamo la guerra più presto e riportiamoli a casa. A parte che tutti gli Israele vogliono che gli ostaggi ritorbano perché sono un pezzo della loro storia. Ma qui c'è forse qualcosa di più, addirittura un accampamento davanti alla Kenesse. E l'accampamento, come sappiamo bene, è il simbolo proprio della casa. Cioè è come se dicessero a Netanyahu, Bada, che questa terra è la terra nostra, è la terra degli avi, che tu stai violentando. E noi siamo qui a testimoniare con queste case costruite in risposta alla tua presa di potere, a testimoniarti l'esigenza che Israele torni alle sue origini, che tu stai devastando. Ecco, vedi qua, Pace is the only solution, diceva uno dei manifestanti. E qui giorno e notte... E per...